Motore! Gli studenti siano un grande potenziale in via di sviluppo. Gli studenti sono genuini e spontanei. Delle frecce. Simpatici, energici. Delle piantine da innaffiare. Gli studenti sono delle simpatiche canaglie. Sono molto curiosi, ma allo stesso tempo sono tanto impazienti. Faccio il lavoro che faccio perché mi piace capire le cose e mi piace capirle spiegandole ad altri. Mi piace insegnare perché è un lavoro che è sempre diverso. Ogni giorno è un'occasione di inventare qualcosa, di spiegare le cose in modo diverso. Faccio il lavoro che faccio perché sono appassionata di apprendimento e mi piace poter aiutare gli studenti a diventare le persone che saranno, quindi contribuire alla loro formazione. La reciprocanza è solidarietà. La reciprocanza è un mutuo soccorso diffuso. La reciprocanza è una mano che dà e una che riceve. La reciprocanza è condivisione. La reciprocanza è accorgersi che non siamo soli.